Perché ha detto un'occasione persa? Hanno votato contro i parlamentari del partito di Renzi, quello che doveva innovare il sistema, hanno votato contro buona parte di quei parlamentari del centrodestra che pure avevano il presidenzialismo nel loro programma, hanno votato contro i deputati del Movimento 5 Stelle che dicevano di voler portare i cittadini in Parlamento. Evidentemente tutti preferiscono continuare a eleggere il Presidente della Repubblica con gli inciuci di Palazzo e la cosa divertente è che se gli italiani potessero votare probabilmente nessuno dei nomi che noi sentiamo circolare in queste ore avrebbe neanche lontanamente diritto di cittadinanza nella consultazione. Noi per protestare contro questo metodo vecchio saremo in piazza a partire da giovedì mattina quando inizieranno le votazioni in aula. Oggi pomeriggio ci vediamo con Matteo Salvini, proporremo un nome autorevole sul quale speriamo di poter aggregare quanti più parlamentari possibili tra quelli che magari non ritengono di dover votare schietta bianca fino alla quarta votazione, fino a quando qualcuno gli cala dall'alto un proprio nome. Da Renzi sono arrivate delle proposte? Renzi non ha fatto delle proposte, ci dispiace perché noi ci aspettavamo che Renzi ci dicesse quali sono i vari nomi che ha in testa, del resto purtroppo mi pare che questa sia quella che dalle mie parti si definisce una manfrina, nel senso che il fatto che Renzi incontri i partiti politici quando già ha detto ai suoi che fino alla quarta votazione devono votare schietta bianca tradisce il fatto che Renzi in realtà non vuole un presidente condiviso. Se Renzi volesse un presidente condiviso darebbe un nome da votare quando serve una maggioranza qualificata, cioè dalla prima votazione. Invece Renzi sta chiaramente lavorando su un presidente che non sia autorevole ma che sia consenziente, che è una cosa completamente diversa. In accordo con Berlusconi secondo lei? In accordo con Berlusconi lo vedremo, io sono molto colpita dal fatto che già Alfano abbia detto che anche loro voteranno schietta bianca. Se dovesse farlo anche Berlusconi vorrebbe dire, nella migliore delle ipotesi, che gli esponenti di quello che era il centrodestra, Alfano e Berlusconi, sono ininfluenti nella peggiore che sono connimenti.